Salve e bentornati, puntata diciamo speciale di Vlog a Vinetto, puntata che avrei preferito non fare perché, a parte che sono picro, ma purtroppo è dedicato alla morte di Mark Lannigan, cantante che io amo e spero anche voi, amavo, e puntata che si ricollega in qualche modo purtroppo alla mia ultima, poi capirete perché, quindi ci vediamo tra pochissimo. Grazie a tutti. 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 non sanno che una delle sue principali ispirazioni a livello vocale e musicale era jeffrey lee pierce dei the gang club che gruppo che vi consiglio era una delle massime ispirazioni musicali di mark lanagan con cui infatti ha collaborato fino alla sua morte insomma avvenuta negli anni 96 mi sembra mark lanagan era entrato negli scrimi trist punto ragione inizialmente come come batterista poi faceva cacare come batterista l'hanno messo a cantare i fratelli conner che erano diciamo i leader degli scrimi trist batterista bassista chitarrista e poi è stato un gruppo molto diciamo burrascoso con una dinamica interna molto burrascosa che infatti non è durato molto a lungo e diciamo dal 1985 circa 84 così fino a 96 quando uscì l'ultimo loro album non hanno mai avuto un grandissimo successo commerciale anche se insomma sono arrivati anche a pubblicare con una major e poi mark lanagan dopo questa avventura e vari problemi di droga alcolismo ha avuto questa carriera solistica fatta di varie collaborazioni con con gli artisti più più disparati da da pj harvey a josh ommy si dice josh ommy e no josh ommy quince of the stone age desert sessions soul savers tanti tanti greg dulli con cui ha fatto un gruppo progetto che si amava molto bello che si amava the gutter twins insomma poi lui ha militato anche nei med season il side project di l'hysterity le risen chains e insomma una carriera veramente piena che ancora andava avanti da te che l'ultimo album è stato pubblicato nel 2020 e il penultimo nel 2019 che era molto interessante anche l'ultimo molto molto bello molto ispirato molto variegato sempre ispirato a sonorità anche anni 80 wave post punk elettroniche un artista veramente versatile dalla voce iconica e dalla figura iconica infatti mark lanagan era una vera icona del mondo del rock un cantante diverso tutti gli altri un front man diverso tutti gli altri uno che per circa 40 anni ha cantato nella stessa posizione con la stessa postura mano sul microfono e mano sull'asta fermo immobile per 40 anni non si è mai mosso era come una quercia un baobab non aveva nulla di teatrale era veramente sui generis sui generis sui generis schivo molto poco sul palco non concedeva nulla al pubblico non è quello che intratteneva cantava le sue canzoni il suo carisma la sua forza era tutta nella sua voce nei suoi testi in quello che esprima sul palco con questa voce molto cavernosa sofferta una voce pesante proprio quasi da da sollevare baritonale molto roga fumo stravisti eccetera una voce quasi antica sin da giovane c'era questa voce bassa da persona grande cioè lui sembrava una voce senza senza età senza età una voce antica un classico era già era già classico quindi poi invecchiando è diventato ancora più rauco ancora più caldo un crooner prima era più cantante rock poi piano piano si è sempre più avvicinato alle sue vere radici che sono blues folk country con tante influenze elettroniche perché lui amava molto la drum machine amava molto sonorità quindi due mondi apparentemente lontani che però lui riusciva a unire perfettamente non era la classica voce che ti aspetti su una drum machine a meno io eppure mark lanaga c'era questa grande passione anche perché poi litigava con tutti i batteristi forse non andava d'accordo con i membri della band quindi la drum machine era pure faceva di necessità virtù io sentendo la sua voce le sue interpretazioni tutte le sue collaborazioni le sue cover era diventato quasi una musa era diventato proprio oltre che un cantautore un frontman era un interprete era diventato mark lanaga io sentendo la sua voce avevo sempre questa sensazione di pesantezza di profondità non solo a livello timbrico a livello musicale sonoro proprio qualcosa di fisico anche qualcosa di diciamo emozionale stiamo questa questa voce anche abbastanza agile anche abbastanza duttile però sempre che lui come se fosse pesante da sollevare quando andava su c'è una sensazione proprio di qualcosa che era che era faticoso e nella fatica usciva fuori qualcosa di emozionante questa voce grossa una voce grossa una voce fortemente espressiva ipnotica evocativa che aveva qualcosa veramente di ipnotico come la come la sua figura la sua figura veramente era ci aveva qualcosa di oltre il carismatico qualcosa di inquietante mark lanaga è uno che lo guarda in faccia io non ho mai guardato ma già vederlo ti intimoriva atto quasi 90 occhi piccoli mascella grossa uno imponente anche insomma personalità con scatti tira risaputi una persona da da non provocare secondo me che risultava intimoriva ecco una persona che intimoriva sia come figura che come vocalità presenza scenica e e bravura un'altra caratteristica di di mark lanaga è appunto la vita come dicevo prima la vita travagliata gli eccessi le dipendenze un problema di dipendenze con le droghe pesanti con l'alcol iniziato addirittura a 12 anni una vita proprio da iniziata da 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 teppista da balordo già con con arresti in adolescenza problemi di alcolismo nati prestissimo problemi di droga pesanti di eroina durati oltre un decennio che l'hanno portato addirittura a vivere da senza tetto per per un annetto assiattolo ricercato da da dagli spacciatori una vita pensare uno così che che stava sui palchi no insieme alle stelle a altro insomma un rock star che vive per strada nel 97 è strano eppure lui ci ha vissuto non riusciva a pagare l'affitto era ricercato finché cartello vedi cartello ha fatto anche cose buone gli ha pagato la riabilitazione la rehab e l'ho fatto uscire da quell'incubo si è ripreso ha cominciato a fare dischi solisti non ha più smesso e ha fatto 12 dischi solisti una presso all'altro probabilmente più varie collaborazioni per fortuna grazie cartello ecco io per anni ho sempre visto mark lani come una figura abbastanza spaventosa una persona schiva burbera un orso di poche parole a te che una fosse intervista supersonic mi sembra di enrico sirvestrin gli diede una risposta mi sembra che non mi ricordo gli diede una risposta alla domanda ehi mark tu che musica ascoltate ragazzino e lui disse i was a kid i never was a kid cioè non sono mai stato ragazzino era un po un personaggio ma era anche una frase che conteneva una porzione di verità perché lui ha sempre fatto una vita da adulto no e ha sempre avuto una voce da adulto non ha mai avuto una voce che io sappia poi anche tra registrazioni degli inizi una voce acerba una voce no bianca non dico bianca adolescenziale era già andato con quella voce lì sembrava quasi che venisse chissà da quale periodo non si sa misterioso mark lani come poi però due anni fa ho visto un podcast su youtube di joseph artur altro altro artista polistrumentista cantatore eccetera e lì ho scoperto un mark lani che non mi aspettavo molto affabile ma non solo affabile perché vabbè quello ci sta pure divertente che si sberga da risate che racconta aneddoti ma proprio una persona allegra solare che si come un amico tuo dico ma questo non è mark lani che io conosco e guardate veramente ve la linko ve la metto nella descrizione del video e quindi quando andai a vederlo a concerto a roma comunque sarà dieci anni fa non mi ricordo 2012 2013 un'ora e mezza fisso nella sua posizione iconica senza dire una parola 20 canzoni non so quante le hanno fatte 15 canzoni non ha detto una parola stava fermo carlo che si crepava lui stava col cappello giubbotto è giaccone ogni tanto si abbassava se si asciugava un attimo così sudore e basta quindi finito il concerto io vabbè ciao me ne vado tanto ti pare che mark lani che scendeva guarda com'è un orso ti pare che scende a parlare con i fan a chi fa la tua grafica invece poi scopro che era sceso giù tutti contenti a fare foto a far bisboccia con mark lani che ampezza quanto rosicato in qualche modo mark lani che non aveva qualcosa in comune con lì a gallagher voi direte vabbè ma che cazzo sta a dire due due mondi musicali completamente diversi quasi inconciliabili anche se in realtà le due band oasis cream trees andarono in tour in una cosa folle nell'anni 90 infatti quasi se vi erano a cazzotti o meglio quasi mark lani che ha preso a cazzotti gli angala che faceva il galletto faceva la prima donna essendo l'headliner e mark lani che è il doppio degli angala e quindi però in comune hanno il fatto che vedi come come gli angala 30 anni in fermo in quella posizione senza mai prendere un microfono in mano e mai fare balletti mai muoversi da lì mark lani che invece non ha mai mollato il microfono quindi in questo sono due icone poi purtroppo chi sono anche minacciati ribotte cioè ultimamente è uscito un libro no di mark lani can sing backward and whip un libro di mori che purtroppo ancora non si riuscì a leggere ho letto degli estratti ho sentito lui che leggeva su youtube una parte quindi leggerò e uno degli aneddoti che hanno trainato questo libro appunto la quasi rissa con gli angala che era che faceva il fighetto poi dice vieni sotto che presenta di fama botte te metto giudizio e anche su twitter rettamente gli angala che ha detto la sua su sta netto è ripartita la faida e mark lani che ha detto guarda che te posso ancora meno è attenzione però poi forse sono che li ha pacificati non lo so comunque io ecco come 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 front man come anti front man io posso metterli quasi in parallelo mark lani che non era uno che adesso era arrivato a un livello di di bravura interpretativa che arricchiva ormai qualsiasi produzione è riuscito ad arricchire qualsiasi progetto con cui ha collaborato pensate eh songs for the death dei dei quiz of the stone age con le sue canzoni con con la sua con quelle canzoni con la sua voce acquistano tutta un'altra profondità e ovunque abbia messo la la sua voce era diventata veramente un un valore aggiunto al di là delle sue canzoni anche con i manning street preachers ha collaborato eh si erano conosciuti sempre in tour con gli oasis entrambi bene supporto con loro è fatta amicizia dopo sing backwards and whip del 2019 mark lani che ha pubblicato un altro libro nel 2021 no che si chiama devil in coma e qui veniamo alla parte triste non si sa ancora ufficialmente quale sia stata la causa della morte di mark lani che ha avvenuto a soli 57 anni nella sua casa in irlanda eh dove si è trasferito da da vari anni perché lui era di origine irlandesi tutte le grandi voci c'è sta cazza fa su tutti irlandesi cobain jeff bugley tutte origini irlandesi vabbè a parte questo eh non si sa bene quale sia stata la causa scatenante ma si sa che purtroppo e qui ci ricolleghiamo al mio al mio ultimo video mark lani che nel 2021 ha contratto il covid mark lani che purtroppo purtroppo è stato un negazionista è stato un negazionista e si era infognato coi complotti sul covid 5g e cose varie quindi negando non ci non ci credeva non si è vaccinato e purtroppo eh si è ammalato il covid in forma molto grave è caduto a terra non respirava l'hanno portato all'ospedale finché già tutto il suo fisico debilitato da anni di abusi di droghe eccetera alcol già c'era problema ai reni è finito in terapia intensiva purtroppo varie settimane in coma l'hanno messo in coma eh artificiale come si dice e eh è stato lì lì per morire ha rischiato la vita purtroppo una storia molto triste eh non riuscivano neanche a a dargli a quando si è svegliato poi da questo coma dopo tre settimane in uno stato di coma semicoma usciva entrava dal coma eh non riuscivano neanche a a dargli antitolorifici gli oppiace su di lui dopo anni di abusi non avevano più alcun effetto le vene erano tutte eh distrutte non erano utilizzabili quindi è stato un casino addirittura purtroppo la moglie ha ha rifiutato di fargli fare una tracheotomia per farlo respirare perché avrebbe distrutto per sempre la sua carriera musicale quindi è stato un momento molto drammatico e dopo qualche settimana Mark Lannigan appunto è uscito forse qualche mese è uscito dall'ospedale ma con il long covid ha avuto grandi strascichi problemi eh tutti gli problemi che aveva pregressi sono stati eh acuiti dal covid quindi si è pentito purtroppo troppo tardi della di essere stato un complottaro di essere caduto in queste stupidaggini qua vedi G Mark Lannigan pure Mark Lannigan e dice va bene adesso mi vaccinerò farò tutto quello che posso per non rivivere più questo incubo e infatti David in una coma questo libro parla proprio della sua esperienza in ospedale col covid che dice mi ha preso a carci in culo sono stato un coglione ma stavolta ho imparato la lezione e ringrazia tutti insomma infermieri i dottori che lo hanno salvato ora io non voglio dire che è morto per non ho prove che sia morto a causa degli strascichi del covid però sicuramente il suo fisico era molto debilitato addirittura era diventato completamente sordo a causa del covid quindi c'aveva problemi eh di respirazione insomma tutta la sua vita di di eccessi poteva arrivare a 80 anni forse magari se si se non si fosse caduto nella trappola di questi complottisti eh chissà probabilmente forse sarebbe sopravvissuto questo non possiamo saperlo così a intuito eh purtroppo mi viene da pensare che ci sia una relazione con questo con questa ospedalizzazione molto molto drammatica che ha avuto recentemente Mark Lannigan addirittura si era eh convinto di essere spiato dal governo attraverso 5G tutte queste cose che magari uno che ha fatto uso di droga non lo so paranoie lui aveva tanti problemi allucinazioni non lo so mi dispiace che Mark Lannigan abbia eh abbia finito così la sua vita comunque aspetterò aggiornamenti su su quello che diranno sulle cause eh il referto medico se mai ce lo diranno però boh io così a intuito temo proprio che ci sia una correlazione col coronavirus cosa che lui ormai aveva accettato come come fenomeno naturale evento naturale ma purtroppo a 57 anni con una vita alle spalle di quel tipo eh eh sei molto a rischio sei molto a rischio quindi una persona così intelligente così profonda così creativa mi dispiace che sia incappato in queste eh idiozie e abbia fatto questa fine se veramente è morto per per gli per i danni del covid però abbiamo perso comunque un artista eh che ha fatto la storia adesso delle icone delle voci iconiche del cosiddetto grange è rimasto praticamente solo Eddie Redd perché eh no? Lei in Stelli, Cobain, Chris Corner è arrivato a 52 anni lui è arrivato a 57 ehm certo uno leggendo quello che ha fatto la sua vita dice ma come ha fatto arriva a 57 anni e una volta rischiava l'amputazione del braccio una volta è cascato da un ponte una volta gli hanno menato una volta andato in galera c'ha avuto problemi di ogni tipo droghe pesanti e alcol io gli avrei detto Mark ma cazzo però cioè ti sei distrutto le vene con l'eroina tagliata col cemento e non te fai il vaccino cioè io gli avrei detto il mondo della musica sta porgendo il suo saluto il suo tributo artista amato a 360 gradi di artisti di ogni tipo perché Mark Lannigan ripeto era quello della scena di Seattle che aveva trasceso il genere maggiormente che che si era evoluto di più nella sua carriera musicale che non era rimasto legato a quello che facevano gli scrivimentrizi ha fatto mille altre cose è quello la cui la carriera musicale paradossalmente è stata più forse la parte la più lunga ma la più variegata e la più creativa no? rimanendo un artista di culto più amato dai musicisti che dal pubblico mai diventato mai avuto un successo planetario no? per vari motivi che vabbè che spero abbiate un po' capito eh quindi io boh non so che non posso che consigliarvi eh di ascoltare i suoi album gli screaming trees eh dust eh anche l'anesthesia tutti gli album degli screaming trees bass factory tutti bellissimi hard rock psichatelia grunge eh garage rock eh oppure tutti i suoi album solistici phantom radio i take care of you can disco di cover ehm eh bubblegum sono tutti tutti belli tutti belli anche gli ultimi dischi con eh Isobel Campbell e chi non lo conosce spero che lo scopra chi già lo conosce è andata così va bene questa puntata speciale eh un po' triste ma spero comunque un po' appassionante e un po' divulgativa finisce qui io vi invito a ad ascoltare scoprire riscoprire la musica di Mark Lannigan vi eh vi invito se vi è piaciuto il video a mettere mi piace iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima puntata di Vlog Gabinetto speriamo meno drammatica dog complementary po' 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 Grazie a tutti.